A chiudere il weekend dello sport pesarese è stato il 61esimo derby di passione fra Vispesero e Rimini. 1-1 il punteggio finale in un derby aperto dallo spettacolo della coreografia pesarese in onore del 125esimo compleanno della società. Alla fine, alla vista resta l'amaro in bocca di una partita tenuta in vantaggio per 77 minuti. Quelli che hanno diviso fra l'1-0 del giovane Nina in gol dopo un minuto e mezzo con conclusione da fuori aria deviata e il pareggio al 78esimo di Bombermorra che in sospetto fuori gioco è stato lesto a ribattere in rete una punizione di Lamesta che Polverino aveva deviato sulla traversa. Due acuti in mezzo a un derby condito da occasioni, legni e scelte arbitrali dubbie. Nella pallavolo invece arriva la prima vittoria pesaro della megabox Vallefoglia che strappa tre punti d'oro davanti al proprio pubblico firmando la seconda vittoria consecutiva ai danni del Bisonte Firenze. Finisce tra uno coi toscani che vincono il primo set 21-25, dopodiché la megabox gioisce coi parziali di 25-18, 25-15 e 25-22. Decisivo ritorno in campo di Košleva ad accompagnare le grandi performance di Mingardi e Alexic. Nel basket invece la VL aveva perso nettamente a Reggio Emilia nell'anticipo del sabato. 101-68 il punteggio finale in favore del Luna Hotels che ha approcciato meglio la gara da subito creando un solco importante per tutto il primo tempo. VL è riemersa solo nel terzo quarto arrivando a meno sede agli avversari ma per la squadra di Buscaglia ex di turno è stato un fuoco di paglia. Continua invece il buon momento dell'Ital Service che nella massima serie di calcio a 5 vince 2-0 a Cosenza centrando il secondo successo consecutivo e il quinto risultato utile di fila che leva Pesaro al quarto posto. I gol di Toni Dandelle e Canal nel secondo tempo firmano una vittoria da squadra matura.